Musica Buonasera e ben ritrovati alla Salute in Comune. Questa sera presenteremo la SICO, Società Italiana di Counseling. E a parlarcene i referenti regionali. Buonasera e benvenuti. La dottoressa e il dottor? Io sono Titti Parente. Andrea Gogliani. Benvenuti. Grazie. Dunque, spieghiamo quindi in che cosa consiste la SICO e che cos'è quindi il counseling. Allora, la SICO è la Società Italiana di Counseling, è la prima società di counseling che nasce in Italia nel 1993. Che obiettivo ha? Ha l'obiettivo di diffondere la cultura di questa professione, di questa attività quindi professionale, attraverso tutta una serie di attività, sia formative, quindi di formazione dei professionisti, e sia attraverso la diffusione di iniziative, anche come questa di questa sera, di sensibilizzazione proprio dell'opinione pubblica. Magari lascio la parola ad Andrea per specificare meglio perché, come dire, sottolineiamo la parola professione del counseling. Sì, è una questione che ci sta molto a cuore in realtà perché essere professionisti della relazione d'aiuto è una questione assai seria che richiede una formazione molto specifica e particolare e anche controllata. Anche perché le persone che vengono a chiedere aiuto hanno diritto e hanno tutto il diritto sempre più consapevole di essere aiutate da persone che hanno la formazione adeguata e questo ci rende dei professionisti, nel senso anche che i counselor iscritti da SICO rispondono anche del loro operato. E quindi sono tenuti a una forma di responsabilità che non è solo etica deontologica ma è un'etica più generale che riguarda la possibilità di essere capaci di aiutare davvero qualcuno. Questo richiede davvero degli sforzi dal punto di vista della formazione ma è anche dovuto, credo, perché chi si rivolge per aiuto è spesso, se non disperato, almeno in una situazione difficile di disagio. E quindi ha diritto a trovarsi di fronte qualcuno che sappia tenere bene la barra del timone dritta per riuscire ad andare dove è opportuno per uscire dalla tempesta in qualche maniera. E quindi questo si può fare se il professionista è tale in quanto ha seguito il suo percorso formativo e la SICO cerca di tutelare non solo la prima parte di formazione ma tutela anche tutta la parte successiva di aggiornamento, tanto che sono previsti come per tutte le attività e le professioni sanitarie anche dei crediti formativi che vanno acquisiti regolarmente e vanno certificati ogni tre anni in modo tale che sia certo che quel professionista continua a cercare, a formarsi, a confrontarsi per essere in grado di essere efficace. Ecco, quindi per spiegare molto più semplicemente, in concreto, per le persone che si trovano in una situazione di difficoltà, quindi come avviene il contatto esattamente? Quindi le persone che poi sono i fruitori del vostro servizio? Allora, il counselor è un professionista a cui ci si rivolge nel momento in cui, cioè può essere anche un momento di semplice indecisione, faccio un esempio così visto che mi ricollego alla concretezza. Non sono soddisfatto del lavoro ma il mio lavoro è fisso, però non ne ho voglia più e ho un'altra possibilità ma questo lavoro non è fisso. Cosa faccio? Cosa scelgo? Situazione molto frequente di cambiamento, di scelta. Temo di avere un problema di salute ma non ho voglia di affrontare il medico perché poi se scopro qualcosa, come la gestisco? Vedete, due campi, la salute, il lavoro, l'amicizia, potremmo andare avanti. Allora, tutte le volte che abbiamo delle situazioni di difficoltà abbiamo voglia e desiderio di confrontarci senza però sentirci dire fai così, fai così, è così e meglio, quel mio amico ha fatto così, vai da quel professionista che è il migliore. Nel senso che il counselor ci affianca come clienti nelle scelte che però noi maturiamo con le risorse che noi riteniamo poter spendere, poter avere. Quindi il counselor è un autore di cambiamento con le risorse e l'aiuto che lo stesso cliente in qualche modo mette in campo. Quindi è un po' un professionista che non dà consigli, non suggerisce strade ma permette in modo un po' maieutico, come Socrate ci ricordava, le risorse interne che abbiamo. E quindi come si va? Ci sono le associazioni di categoria, ci sono i siti, certamente siamo in una fase di diffusione della professione. Poi forse la cosa più semplice per prefigurarsela è che siamo abituati a pensare a questo tipo di professioni come professioni che si svolgono in uno studio. Cosa che il counselor può fare? Può ricevere anche dei clienti in qualche maniera. Più propriamente forse il counseling anche per la tradizione anglosassano che ha è uno sportello, un luogo che si trova all'interno di un'istituzione, tipo una scuola, un'università ad esempio, o un luogo di lavoro, un ospedale o un consultorio. Tanti posti dove specifiche attività professionali possono richiedere un'ulteriore capacità. Quella di essere in grado di relazionarsi con una persona che deve anche compiere delle scelte. E allora una persona può incontrare il counselor ad esempio all'interno di un'istituzione, ad esempio all'interno di un ospedale dove c'è chi si occupa di patologie tumorali, in un apparto oncologico e magari è il familiare che trova lì la risorsa di un counselor che magari parla con lui, magari fa un gruppo di familiari e li guida a riuscire a fronteggiare una situazione esistenziale, complessa, penosa, come può essere quella di una malattia così grave. Magari non proprio ma magari anche di un familiare. Quindi facilmente un counselor si trova in varie istituzioni. Quasi tutte le università italiane ad esempio hanno un servizio di counseling che si occupa degli studenti per aiutarli nelle scelte, nelle difficoltà di studio, nelle difficoltà di relazione che si possono instaurare in quel momento di crescita. E questo è qualche cosa che rappresenta un'esperienza importante, arricchente per quell'istituzione. Poi se uno la desidera può anche cercare percorsi specifici. Nel mondo del counseling esistono tutte diramazioni con tecniche e applicazioni diverse, tipo il counseling e mediazione artistica ad esempio, che è uno dei più diffusi, o quelli che si occupano molto di lavorare con l'espressione corporea per esempio. Allora lì può essere che uno cerchi una strada di confronto, di realizzazione di sé anche attraverso degli specifici percorsi che uno va a trovare privatamente ad esempio. Ecco, quindi magari vogliamo raccontare poi qual è la differenza tra il counseling e le relazioni d'aiuto? È piuttosto uno psicoterapeuta o addirittura un centro d'ascolto di automutuo aiuto? Ci sono delle differenze importanti, sostanziali e anche visibili. Quindi la difficoltà nel differenziare tutto ciò è che tutte le professioni d'aiuto si riconoscono in quelle che sono le teorie e le metodiche della relazione d'aiuto. In realtà il cancer si muove su un piano di strategie individuali, di risorse personali per fronteggiare situazioni di vita, della propria esistenza. Uno psicoterapeuta, che può essere un medico o uno psicologo, si occupa di andare a trattare le dinamiche intrapsichiche, quindi quello che la persona stessa non sa neanche forse di avere a disposizione della propria coscienza e lo aiuta a arrivare a una conoscenza profonda di sé e della vita stessa. Un centro di ascolto di per sé, che citava lei, è qualcosa che può trovare presente un counselor, come anche uno psicologo con delle capacità psicoterapeutiche. Ognuno svolgerà in quel caso un'attività differente per quella persona. Uno psichiatra si occupa, ad esempio, di una persona con delle sofferenze che possono essere suscettibili anche di un trattamento biologico, ad esempio attraverso anche dei farmaci, caso mai la sofferenza lo richieda. Un assistente sociale opererà una professione d'aiuto a volta all'acquisizione di obiettivi molto specifici e particolari. Un educatore, a sua volta, ha altre competenze che sono molto più su un piano concreto di vita. Il counselor, specificamente, si trova ad operare laddove l'aiuto è permettere a quella persona di trovare dentro di sé delle risorse che ama, che non riesce a vedere, per fronteggiare delle situazioni che in quel momento lo mettono in difficoltà. Possono essere difficoltà gravi o lievi, ma comunque per lui sono delle difficoltà. E le sue risorse sono l'unica strada. Come diceva Titti Parente, non si tratta di dire come si vive, ma di aiutare la persona a trovare il suo modo di vivere. Esiste quindi una scuola o più scuole per formare il professionista di counseling? Sì, esistono le scuole di formazione, sono scuole triennali che preparano il professionista, correttamente come diceva, attraverso un percorso di studio e di pratica, perché c'è tutta la parte anche di tirocinio e quindi di applicazione di quelli che sono i contenuti teorici poi nell'esperienza, nella parte pratica. Noi abbiamo come SICO delle scuole, esistono varie scuole di counseling, perché noi siamo una delle associazioni italiane di counseling, siamo certamente l'unica, e questo è una notizia importante perché il counseling si sta diffondendo. E questo è il fatto che ci siano più associazioni, più scuole, differenze, secondo me ne caratterizza sempre più l'importanza della professione. Praticamente una scuola di counseling è una scuola di tre anni, come in qualche modo paragonabile a quello che è un master, e che quindi richiede un titolo d'accesso che per ora è quello di un diploma di scuola superiore, prossimamente potrebbe essere che l'adeguamento a leggi europee preveda che ci sia già una laurea di primo livello, ed è un master che prevede moltissime ore di didattica frontale, di formazione personale, formazione individuale e di gruppo e di tirocinio. È una scuola che prevede quindi che la persona non solo acquisisca competenze, ma che provi ad utilizzare quelle competenze anche su di sé, per verificarne in qualche modo, come diceva Jung, anche la propiatezza, prima di proporle a qualcun altro. Bene, avete una pagina Facebook e un sito, i contatti da ricordare? SicoItalia.it, la pagina Facebook è sempre SicoItalia, Twitter è SicoItalia, basta mettere SicoItalia, non solo Sico perché purtroppo era una sigla, era un acronimo già acquistato da altri, e quindi bisogna sempre mettere SicoItalia tutto attaccato, ma si trova ovunque tramite i soliti motori di ricerca, sia il sito internet, sia le pagine Facebook, sia le pagine di Twitter e anche LinkedIn. Volevo solo aggiungere per correttezza che siamo qua io e Andrea, ma c'è una terza collega, noi siamo in tre, referenti del Piemonte della Valle d'Aosta, che è Glebastia, che è qui con noi questa sera, però appunto mi faceva piacere ricordarlo, visto che parlavamo di contatti, mi sono venute in mente le persone, e quindi solo questa comunicazione. Bene, quindi www.sicoitalia.it, grazie. E grazie a voi per questa domanda. E buona salute. Ciao, dalla salute in comune! Grazie a tutti!